90 anni di giostra raccontati attraverso gli abiti, i trofei e le immagini che ne hanno fatto la storia. Un viaggio tra i decenni per celebrare l'evoluzione del Saracino nell'era moderna, da quel 7 agosto 1931 che ne sancì la rinascita ai giorni nostri. Insomma, un manifesto speciale realizzato per esaltare il novantenario. Sono queste le iniziative ideate dal Consiglio della Giostra che l'amministrazione comunale sta predisponendo per festeggiare i 90 anni della manifestazione e che prenderanno forma in una preziosa esposizione che sarà allestita nel corso del mese di luglio nel Palazzo di Fraternita in Piazza Grande. Qui troveranno spazio i primi abiti degli anni 30, le creazioni di nuovarese, i bozzetti, i costumi indossati nel corso dei decenni dai quattro quartieri e dalle associazioni e i manifesti, il culmine con l'esposizione delle lance d'oro, una per decennio, per ripercorrere la storia della giostra attraverso i trofei che si sono trasformati nel tempo da semplici sculture e linee a vere e proprie opere d'arte. Ad impreziosire la mostra, infine, video e foto del passato in un racconto per immagini che restituirà al visitatore pagine storiche della giostra del Saracino e dei protagonisti che l'hanno resa grande. Oltre a Piazza Grande, che sarà il fulcro dell'esposizione, il percorso celebrativo si snoderà anche attraverso il centro storico con l'esposizione di otto costumi storici degli anni 30 e 50 a Palazzo Lombardi grazie alla collaborazione con Giuseppe Angiolini, recentemente investito dal sindaco di Arezzo nel ruolo di direttore artistico della città.